adesso il bosco purtroppo è messo così abbandonato se stesso hanno solo a raccogliere funghi per denaro purtroppo non c'è più manutenzione da parte nessuno e poi guardate tutti matti chiaramente guardate come sono belli se ci sono felici c'è acqua e ci sono questi funghi che le lumache vanno nostre ma mi sono accorto non solo le lumache se lo ritrovo ecco qua andate quanti mosche e mosconi ci sono attaccato ecco altri due e un altro guardate che lavoro adesso mi hanno visto invece ne sono altri due qui ne sta per nascere un altro questo invece è andato poi ecco qua anche questo che si è rotto perché non è riuscito a spostare la terra poi mi sono fermato per fare il filmato qualcuno è arrivato e ha spezzato questo tutti velinosi fare posto è bello questo è un sentiero per prendere la legna questo è il confine fra la bete e il faggio fateci vedere la luce la differenza di luce poi qui è una zona che insomma si passa anche la luce è un sentiero per far luce Grazie a tutti.